Come è stato un saluto ben ritrovati, vi ricordo come sempre di commentare, di iscrivervi, di lasciare un bel like e di scaricare gratuitamente dal link qui sotto nella descrizione l'app di Mordiez perché è molto ben fatta, perché ogni appassionato di calcio dovrebbe averla, si può personalizzare a seconda della propria squadra del cuore perché c'è in paglia una maglia come questa del Milan o di qualsiasi altra squadra a seconda di chi vince specificate come vi chiamate e che maglia vorreste, scatenatevi Milan-Inter bomba ragazzi, un derby bomba, dopo la sosta sabato 17, un derby clamoroso un derby pazzesco con Inter e Milan prima in classifica, devo dire che stanno impressionando entrambe l'Inter non ha ancora subito una rete, il Milan ne ha subiti due, entrambe con quattro marcatori il miglior marcatore dell'Inter a 5 è Lautaro senza rigori, il miglior marcatore del Milan è Giroud a 4 con però tre calci di rigore davvero molto molto bene, credo che sia stato un po' più complicato il calendario del Milan con Bologna, Torino e Roma in trasferta, quello dell'Inter è più facile con Monza, quest'anno non sembra Monza, lo scorso anno Cagliari, Reno Promossa e Fiorentina ieri dominata, va detto giovedì aveva giocato una partita molto dispendiosa in Conference League è un gran bel derby, ho la sensazione vedendo un po' anche le altre che non può essere un derby scudetto la quarta giornata però sarà un derby scudetto quest'anno cioè c'è il derby per la seconda stella e ho la sensazione che il derby tornerà a Milano da una parte o dall'altra, chissà però è una gran bella sfida, davvero gran bella sfida quello sarà un derby molto importante per classifica punti ma soprattutto a livello psicologico perché se lo porta a casa per il Milan sarebbe importante non perdere l'ho visto che ne ha persi tutti quest'anno nel 2023 e vedremo ragazzi però è un derby pazzesco, bomba, clamoroso, mettetevi gli aggettivi più belli che ci siano commentate con le vostre sensazioni, chi vedete più in alto e più in basso iscrivetevi e scaricate gratuitamente l'app numero 10 in paglia una maglia del vostro giocatore scrivete qui sotto eventualmente chi un abbraccio